Baldi giovani, il Toro con la vittoria di oggi inizia ad annusare quel sapore di salvezza invece oggi la Lazio con quella vittoria là può sperare per la Corsa Champions perché questo è quello che dice la classifica la Roma invece, almeno per quanto riguarda l'ingresso per la porta principale tramite il campionato deve dire praticamente addio ne parliamo, prima voglio invitarvi a scaricare l'app OneFootball per rimanere aggiornati per essere lì sempre sul pezzo, per non perdervi nulla del mondo del calcio in termini di news link in descrizione, l'app è gratuita partiamo un attimo dal Toro, partiamo proprio dalla squadra Granata che merita attenzione e concentrazione soprattutto per il lavoro svolto da Nicola, ma non solo perché è giusto, arriva un allenatore nuovo che sta facendo bene gli ha trasmesso quella giusta mentalità alla squadra sicuramente quando parlo di mentalità parlo del fatto che negli ultimi minuti stanno lì a martellare ancora e vogliono il terzo gol e ottengono il terzo gol ma si deve parlare anche dei giocatori perché se c'è un giocatore su tutti che secondo me ha plasmato questa squadra è Mandragora ecco, parliamo sempre di... non lo so, di giocatori altisonanti ma Mandragora lo è per questo Toro lo è per questo Toro perché oggi ha fatto una partita maiuscola poi è normale considerare chi fa i gol quindi anche Sanabia, un altro innesto molto utile o Zaza che addirittura Sky lo danno come migliore in campo per me no, il migliore in campo per me è il Mandragora è lui, è lui il giocatore fondamentale di questa squadra qua è lui perché innanzitutto salva un gol fatto quando ci mette quel gambone quando fa 30-40 metri e ci va a mettere il gambone e poi è bravissimo anche nel dettare i passaggi nel dare i tempi a questa squadra traccia delle traiettorie interessanti con la palla Mandragora veramente ha cambiato questa squadra c'era bisogno di un regista e lui è il regista perfetto per questa squadra veramente, veramente top è brava, brava il Toro che nel primo tempo ha avuto tante occasioni anche nel secondo si è ripetuto ha fatto una grande gara bisogna dirlo, ai danni di una Roma con una squadra che si è presentata secondo me forse con troppi rincalzi e sì, perché poi ne ha cambiati otto rispetto alla scorsa gara è normale che da una parte ti devi far male o punti sull'Europa League a questo punto o punti sul campionato un campionato un po' difficile vista la classifica allora dici, me la gioco con il rincalzi e vediamo come va e sarebbe andata anche bene dico una roba, sarebbe andata anche bene perché poi una squadra che voi non vuoi si è trovata in vantaggio assist di Pedro non so se volontario o meno di tacco bellissimo assist e gol di Borja Mayoral che il suo, onestamente, sto ragazzo quando viene chiamato in caso è il suo lo fa sempre poi è vero, ha subito tanto, tantissimo ma ha avuto occasioni clamorose per chiudere la partita come dicevo prima Mandragola salva un gol lì può essere 2-0 se Pedro si dà una mossa lì può essere 2-0 se Pedro non sbaglia nuovamente e non è egoista sottoporta quando sono 3 contro 2 lì segni 2-0 e chiudi chiudi la pratica è l'errore di lucidità ci può anche stare lo sbaglio ciò che non è tollerabile è l'errore concettuale cioè Pedro oggi ha sbagliato sotto tutti i punti di vista oggi la partita di Pedro di Pedro insufficiente ha fatto i danni oggi Pedro ha fatto i danni perché ha sbagliato un passaggio infiltrato per Carles Perez che poteva finire sotto poteva essere attuperto col portiere ha sbagliato quasi tutto e il tacco è l'unica qualcuno dirà unica c'è stato il gol però non so neanche quanto sia stato volontario poi anche sfortunata la Roma l'espulsione di Diaguara se vogliamo il secondo giallo è il primo ok l'erroraccio di Fazio nel finale ma questi sono dettagli il fatto è che l'ho detto prima secondo me negli episodi non bisogna sbagliare almeno concettualmente parlando non bisogna non bisogna sbagliare al mio modo di vedere passando alla Lazio la Lazio che vince le ultime 5 gare le ultime 5 gare di campionato le ha vinte e lo fanno sotto il segno del cannoniere della propria squadra immobile che è presente su tutti i gol su tutti i gol c'è il suo timbro o di rifinitura o di marcatura c'è il suo timbro vedere per credere credere per vedere no vedere per credere appunto credere per vedere credere per credere no vedere per credere veramente il secondo gol il primo è un autogol praticamente ma il secondo gol è bellissimo passaggio di Sergei immobile lo stop a smarcarsi che si smarca in mezzo a due è bellissimo il gol bellissimo attaccante vero vero segna con una macchina segna con una macchina in campionato con la Lazio segna 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 leggero non mi ricordo chi lo diceva 150 gol in non mi ricordo adesso purtroppo ma comunque valanghe di gol in Serie A valanghe di gol in Serie A per questo attaccante qua che veramente si è preso la Lazio e bravo anche Correa oggi hanno dialogato bene lì davanti la Lazio è una macchina che funziona quando ha tutti gli effettivi è una macchina che funziona un po' meno dietro anche se bisogna dirlo dietro ragazzi miei oggi è beccato un gol bellissimo di Sau e poi due calci d'angolo su un calcio d'angolo sciocchezza di Marosic sull'altro non riesce a prendere click due errori da calcio d'angolo quindi si può si può fare meglio ma la Lazio ribadisco nelle ultime cinque gare ha vinto sempre ed è lì ed è a quattro punti dalla Juventus che è quarta ad oggi è quattro punti dalla Juventus potenzialmente a un punto perché è una gara in meno proprio contro chi? contro il Torino c'è da divertirsi dal di giovani c'è da divertirsi e ci divertiremo in questo finale di stagione fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate le accate iscrivetevi al canale se volete vedermi qui per il post di Napoli Inter un grande abbraccio da Neschi ciao ciao ciao